ciclone poppea come un uragano eccoci a blevio sulla sponda orientale del lago di como forte ondata di maltempo sul lago di como nel territorio di blevio si sono registrate frane smottamenti e allagamenti alcuni piccoli ruscelli sono straripati causando disagi aggiornamento 1223 situazione molto delicata in valtellina dove le forti piogge e i forti temporali stanno provocando l'ingrossamento di molti torrenti e si registrano già alcuni disagi nella zona di santa caterina valfurva con allagamenti ed evacuazioni dalla mezzanotte sono caduti più di 100 millimetri di pioggia e la situazione non è destinata a migliorare a breve restando al nord cautela anche in friuli dove negli ultimi minuti si stanno registrando violenti temporali e intensa attività elettrica in provincia di udine aggiornamento 1130 piogge abbondanti continuano a bagnare il levante ligure e l'alta toscana dove sono in corso temporali anche intensi in lombardia si registrano temporali molto forti varesotto nel comasco e milanese oltre che in provincia di sondrio aggiornamento 1 la neve di fine agosto sta cadendo in piemonte fino a quote decisamente interessanti tutto bianco 2000 metri sestrieri in provincia di torino con temperature intorno allo zero gradi celsius ma si intravedono fiocchi di neve anche quote più basse fino circa 1800 metri sono riprese forti piogge su alcuni tratti della liguria soprattutto sul settore orientale dove si segnalano anche temporali situazione in queste ore la parte più attiva del maltempo si sta spostando verso nord est anche se sul versante occidentale del nord soprattutto sulle colline piove ancora piogge spesso di carattere tempestoso stanno interessando in questo momento tutto il triveneto tempo instabile anche su alcuni tratti del centro soprattutto tra marche umbria e abruzzo si segnalano piogge anche nella zona centro settentrionale della sardegna piovaschi in liguria dove in queste ore le precipitazioni stanno fortunatamente dando tregua poco da dire invece le regioni meridionali e per la sicilia dove il tempo è ancora sereno fatta eccezione una leggera perturbazione in campania evoluzione cosa accadrà quindi nelle prossime ore il quadro meteorologico continuerà a restare pesantemente compromesso al nord e con il passare delle ore lo diventerà anche su tutto il settore tirrenico dalla toscana al lazio fino alla campania e alla calabria attenzione soprattutto alle regioni settentrionali dove nel corso della giornata le precipitazioni potranno assumere nuovamente una forte intensità come mostra la mappa qui sotto nella giornata di lunedì 28 agosto si potrebbero registrare ancora accumuli superiori 100 mm con punte fino a 150 e quindi equivalenti 150 litri di pioggia per metro quadrato precipitazioni previste per lunedì 28 agosto il tempo continuerà poi ad imperversare per tutto resto della giornata mentre il vortice di poppea sposterà molto lentamente suo cuore pulsante verso est dai ci sono tutte le condizioni